Benvenuti, cari spettatori, in un'affascinante esplorazione dei segreti nascosti che sono custoditi sotto chiave nei confini della città del Vaticano. Da secoli, questo enclave religioso è stato l'epicentro del potere e della spiritualità cattolica. Tuttavia, dietro la sua imponente facciata e i suoi sacri corridoi, si cela un velo di mistero e intrigo che avvolge il Vaticano. Preparatevi a svelare gli enigmi e ad immergervi nelle profondità dei segreti che la Chiesa cattolica preferirebbe tenere nascosti. In questo video, ci addentreremo oltre le storie conosciute e le narrazioni ufficiali, esplorando le teorie e le speculazioni che circolano sui segreti oscuri e sulle verità oscure che il Vaticano non desidera che voi conosciate. Inizieremo svelando i misteri che si celano dietro gli archivi segreti del Vaticano. Questi archivi contengono una vasta collezione di documenti storici e religiosi, ma sono inaccessibili al pubblico. Ci sono speculazioni secondo cui questi archivi potrebbero contenere informazioni sensibili, come registrazioni di eventi controversi, segreti papali e persino prove di attività occulte e cospirazioni. Cosa nasconde il Vaticano in questi archivi? Ci immergeremo nella magnifica Biblioteca Apostolica Vaticana, conosciuta per ospitare una vasta collezione di manoscritti, libri rari e testi sacri. Tuttavia, al di là dell'accesso concesso agli studiosi, ci sono indicazioni che suggeriscono l'esistenza di corridoi segreti e stanze nascoste, dove riposano testi vietati e antichi. Questi scritti misteriosi potrebbero contenere informazioni rivelatrici su eventi storici, interpretazioni alternative dei dogmi religiosi e persino segreti del passato turbolento della Chiesa Cattolica. Durante l'oscura era dell'Inquisizione, il Vaticano istituì la Sacra Inquisizione, un'istituzione incaricata di perseguire, giudicare e punire gli eretici. In quel periodo di oppressione e intolleranza, numerosi documenti furono catalogati, descrivendo interrogatori, confessioni e sentenze degli accusati. Tuttavia, persistono teorie secondo cui gli archivi della Sacra Inquisizione contengono informazioni sensibili che vanno, oltre le eresie religiose, coinvolgendo segreti politici, accordi dubbi e persino attività occulte all'interno della stessa Chiesa. Il Tesoro del Vaticano è noto per la sua ineguagliabile collezione d'arte, che comprende dipinti rinascimentali, sculture classiche e oggetti liturgici di inestimabile valore. Tuttavia, si ipotizza che questa collezione vada oltre ciò che viene mostrato al pubblico. Si ritiene che esistano stanze segrete, nascoste nelle profondità del Vaticano, che custodiscono manufatti sacri, reliquie importanti e persino oggetti di potere mistico, come il Santo Graal. Queste reliqui avrebbero presunto un potere simbolico e spirituale che trascende la comprensione umana. Nel corso dei secoli, il Vaticano è stato circondato da voci e speculazioni sulle sue connessioni con influenti società segrete. La più conosciuta di queste società è la massoneria, i cui membri includono leader politici, intellettuali e nobili. Alcuni teorici ritengono che la massoneria abbia esercitato una significativa influenza dietro le quinte della Chiesa Cattolica, plasmando eventi storici e persino la scelta dei papi. Inoltre, emergono menzioni intriganti sull'Ordine di Malta, un'organizzazione strettamente legata al Vaticano che svolge missioni umanitarie in tutto il mondo. Queste società segrete potrebbero essere coinvolte in attività oscure e intriganti, che vanno da intrighi politici a rituali mistici, aggiungendo strati di mistero alla storia del Vaticano. Una teoria audace e controversa suggerisce che il Vaticano possieda conoscenze sui contatti con esseri extraterrestri. Queste affermazioni provengono da testimonianze di ex astronauti, informatrici e ricercatori dedicati al fenomeno degli UFO. Alcuni sostengono che la Chiesa Cattolica sia consapevole dell'esistenza di vita al di là della Terra e custodisca, segreti su avvistamenti di UFO, visite extraterrestri e persino registrazioni di possibili contatti con esseri di altri mondi. Queste teorie speculano sul coinvolgimento della Chiesa in iniziative per divulgare gradualmente queste informazioni all'umanità o se mantenga tali conoscenze nascoste, temendo l'impatto che potrebbero avere sulla fede e sulla stabilità sociale. Mentre esploriamo i segreti nascosti del Vaticano, dobbiamo ricordare che gran parte di queste informazioni si basa su teorie e speculazioni anziché su fatti comprovati. Il Vaticano è un'istituzione con una storia complessa e profonda che suscita curiosità e mette in discussione la comprensione convenzionale. Mentre continuiamo a cercare la verità e a svelare i misteri che circondano la città del Vaticano, è fondamentale mantenere una prospettiva critica e un approccio prudente di fronte a informazioni sensibili. La ricerca della conoscenza e l'esplorazione dell'ignoto sono parti essenziali della natura umana. Ponendoci domande, investigando e riflettendo sui segreti del Vaticano, ci impegniamo in un processo di scoperta che ci porta oltre le apparenze, permettendoci di esplorare strati più profondi della storia e della spiritualità. Che questo viaggio ci conduca verso una comprensione più ampia e arricchente del mondo che ci circonda, mantenendo sempre la mente aperta a nuove possibilità e prospettive.